Sono Giorgia Butera, responsabile comunicazione e marketing del Jazz Club. Questa sera io vi ringrazio, in nome di tutti, di chi organizza questa serata, del nostro direttore artistico Alessandra Mirabella. Siamo davvero tanti, è una serata piacevolissima, la musica, il jazz, il mare, lo stare qui è cultura del vivere. Questa è una sessione di jazz, noi apriremo il 2 ottobre, il primo concerto sarà Enrico Rava. Ad Aura Jazz Station, io Alessandra passo subito il microfono a te, il nostro direttore artistico, e ci presenterai chi stasera sarà qui con noi. Grazie Giorgia. Buonasera, e allora questa sera vi presento il Loredana Spata Jazz Vocal Lab. È un concerto che vede impegnate delle voci, le voci degli allievi di Loredana, che da sempre, da sempre, è impegnata in Sicilia a promuovere il jazz, il canto, soprattutto la cultura del jazz. Ad accompagnare i cantanti che fra poco vi presenterò ci saranno Sergio Munafo alla chitarra, Riccardo, un applauso, grazie. Riccardo Lopue al contrabbasso, Roberto Mezzatesta al pianoforte e Giancarlo Canali al flauto. Scusate, ma c'è un problema di suono che dobbiamo intanto regolare. Allora, avevamo fatto dei suoni bellissimi, ma adesso dobbiamo un attimo impegnarci due minuti per rimetterli a posto perché qualcuno ha passato tutto. Mettetevi le mani nelle orecchie. Mettetevi le mani nelle orecchie.